Basel Instruments è una piccola società apposta nella Repubblica cieca, emersa negli ultimi anni grazie a una produzione di schede per synth modulare Neurorack e di altri apparecchi e strumenti musicali elettronici. Castle è probabilmente il più piccolo sintetizzatore modulare mai realizzato sul pannello frontale ha una serie di controlli che riguardano sia la generazione del suono sia la modulazione e questi vari blocchi che compongono il sintetizzatore sono collegabili tramite dei mini patch cord delle dimensioni di uno spillo che vengono chiaramente forniti insieme alla l'apparato. Il sintetizzatore è dotato di un ingresso di sincronismo che permette di connetterlo e cloccarlo con altri apparati che generano sync simili un esempio tipico e che vedremo in questa breve demo è quella del Volca della Korg. Questo strumento delle dimensioni e dal costo anche molto contenuto risulterà utile a quei musicisti elettronici che vogliono un piccolo generatore di suono di droni e di noise che si possa aggiungere a una dotazione molto portatile. Il Castle è distribuito in Italia ma è anche ordinabile online direttamente al sito della Bals e Instruments. Vediamo adesso una breve demo improvvisata delle potenzialità che questo piccolo strumento ha. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.